Conferenza stampa per la presentazione del bilancio preconsuntivo 2014 di Ravenna Holding. La situazione è molto solida per quanto riguarda i suoi risultati economici. Anche nel 2014 i dati di preconsuntivo migliorano il budget di quasi un milione e mezzo di euro, dato che siamo molto confidenti sia quello vicino al definitivo, e quindi garantirà un utile di oltre 8 milioni e la conferma del dividendo superiore alle aspettative per quanto riguarda i nostri azionisti. Dato sicuramente molto positivo in questo contesto economico che continua a essere complicato. Rispetto quindi al 2015 che cosa si prevede in questo previsionale 2015? Dunque il previsionale 2015 conferma nei dati strutturali questa situazione. La Holding vede alimentati i propri ricavi attraverso in particolare i dividendi delle proprie società partecipate in una situazione che ormai può essere considerata consolidata. Nel 2015 abbiamo un'importante operazione a servizio dei soci prevista di riduzione del capitale sociale. Quindi gli azionisti hanno necessità finanziarie che la Holding nei prossimi mesi verificherà come finanziare per portare a dar corso a questa operazione di circa 20 milioni di euro che non andando a intaccare in maniera significativa né la solidità patrimoniale né nella capacità della Holding di produrre reddito darà un'iniezione importante e significativa di risorse fresche agli enti locali che hanno i bilanci messi a dura prova in particolare dal patto di stabilità. Quindi a questo si collega anche la vendita delle azioni di ERA da parte del Comune che vi riguarderà direttamente? Le azioni di ERA sono detenute dalla Ravenna Holding per conto dei soci che partecipano alla Ravenna Holding, quindi Ravenna ma anche in misura minore Cervia e Faenza. L'operazione di riduzione del capitale sociale potrà essere finanziata attraverso la solidità della Holding anche prescindendo dalla vendita di azioni di ERA o meglio non essendo necessariamente legata a doppio filo da un punto di vista della cronologia e della quantità di azioni da vendere a questa operazione. Naturalmente una delle leve importanti per reperire risorse fresche è legata alla possibilità di vendere almeno in parte azioni di ERA. Stiamo parlando di un'operazione non ancora definita nei dettagli, siamo in corso di una fase di aggiornamento del contratto di sindacato di voto che regolerà la vita di ERA da luglio e per i prossimi due anni e mezzo. In tale ambito verranno verificate le opportunità e l'eventuale necessità di dare corso a queste alienazioni. Quello che mi preme sottolineare è che in ogni caso rispetto alle 86 milioni di azioni oggi detenute da Ravenna Holding di ERA stiamo parlando di qualcosa che non sarà assolutamente stravolgente né della qualità e significatività della nostra partecipazione in ERA né degli assetti e degli equilibri economici e finanziari della Holding.